In questo periodo abbastanza delicato e impegnativo nasce una bella iniziativa, di cosa si tratta? Un'iniziativa che vede coinvolta la Banca del Tempo del Canavese, con diretti che ovviamente supporta questa iniziativa, è un'iniziativa molto importante e molto interessante. In un periodo vissuto in modo molto pesante da parte di quelle classi sociali, gli anziani in particolar modo, noi diamo la possibilità di acquistare prodotti di Campagna Amica presso i nostri mercati di Quornier e di Rivarolo. Acquistare i prodotti ma non personalmente, ci sarà comunque un servizio in aiuto a queste persone anziane? Un servizio, noi facciamo molto affidamento sugli operatori della Banca del Tempo, che potranno venire presso i nostri punti vendita dei mercati ed acquistare per conto delle persone con difficoltà anche di diambulazione o anziane prodotti di qualità di stagione, soprattutto italiani. Prodotti che potranno essere acquistati senza costi aggiuntivi presso i nostri banchi aderenti e soprattutto abbiamo chiesto alle aziende che aderiscono a questa iniziativa ad applicare anche degli sconti per favorire ulteriormente l'acquisto dei nostri prodotti. Potrete trovare tutto quello che già trovate durante i mercati di Campagna Amica, per cui frutta, verdura, carne, formaggi, pane, uova, tutto quello che le nostre aziende producono come eccellenza del canavese e come prodotti italiani di eccellenza. Quindi tutti i prodotti essenziali di prima necessità? Prodotti essenziali sicuramente. La nuova iniziativa partirà a breve nei pomeriggi di lunedì a Quarnier e del venerdì a Rivarolo Canavese. Per informazioni chiamare il 349 561 9420 oppure il 335 73 69 112.